Ciao raga, adesso vi mostro il perché l'altra settimana, l'altro fine settimana non siamo andati in live perché c'è avuto un po' da fare e adesso vi mostro anche il perché vedete queste cassettiere, diciamo sì questa è una cassettiera, questa centrale questi sono degli sportelli adesso vi faccio vedere che cosa contengono e cosa ho fatto questo fine settimana allora qui ci sono un po' di riviste sportive qui ci sono delle bustine che sono veramente tantissime qui ci sono altri album, questi sono soltanto gli album vuoti ragazzi, quelli che vedete qui qui ci sono riviste album qui ci sono altri album vuoti di vari anni, varie annate e adesso arriva il pezzo forte che è questa cassettiera che poi avete visto anche quanto l'ho montata l'anno scorso vabbè qui non c'è niente questo primo cassetto ma guardate qui ragazzi, questa è soltanto una parte di figurine che ho perché poi ci sono tutti gli album completi i set che ce l'ho da un'altra parte quindi per questo motivo non siamo andati in live lo scorso fine settimana adesso cercheremo, questa titola è manco se apre per quante ce ne stanno cercheremo di farlo questo fine settimana ragazzi quindi restate aggiornati sul canale e presto vi dirò le date delle live di questo fine settimana ciao a tutti